Ciao a tutti ragazzi bentornati in tantissimi mi avete chiesto ma come si fa a giocare con te Beh oggi ragazzi si può perché ho aperto un server tutto mio signori Beh tutto mio non proprio perché ho un socio in affari che mi da una mano con gli script per gestire il server e tutto quanto Ovvero il grandissimo I lost a name Eccolo qua Ciao 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 tutti Eccolo oggi ci darà una mano per vedere le varie funzioni del server perché io non è che sono molto esperto ecco Per entrare nel server basta cliccare su multi giocatore cliccare su aggiungi server sul nome server ci metti quello che te pare Cioè poi mette che ne so Antonio HS Antonio server di Matteo HS poi scrive tutto quello che te pare Io scrivo server di Matteo HS Invece sull'indirizzo del server bisogna aggiungere la dicitura mc.minehs.com Poi basta che vai qui clicchi eccolo Te l'ha aggiunto qua sopra clicchi qui Siamo nella lobby di Matteo HS Del server di Matteo HS Eccolo qua Eccola Però devo dire che I lost a name ha fatto un lavoro della madonna Veramente un lavoro della madonna Appena entri c'è scritto tutto Benvenuto Matteo HS Sarebbe il mio nome Su minehs Poi tutti quanti i comandi Per usare i comandi basta premere il tasto T Lì c'è scritto tutto Slash, hub, tutto quanto Ovviamente c'è anche il discord Che vi consiglio tantissimo di entrare nel discord Se avete bisogno di scambiare opinioni con i vari player Potete scrivere ad I lost name Che è super gentile Super disponibile con tutti Vero? Sì assolutamente sì Esatto Se c'è qualche bug potete riportarlo Perché in realtà non è la versione ufficiale Ma è una beta Quindi portate pazienza se ci sono un po' di bug Un po' di cose Però risolviamo tutto nel giro dei 24 ore Poi c'è il sito Dopo ne parlo più tardi Poi a destra c'è tutte quante le informazioni Quante persone ci sono dentro Ecco al momento ci sono 13 persone su 150 L'ho annunciato su Instagram e su Twitch Ovviamente non è che ho iniziato a giocarci E cose varie Quindi dobbiamo un attimo Vedere Vedere bene cosa fare all'interno del server Però già mi immagino La gente che si incazza Io che su madonna Perché C'è sta quello che Mi rovina la casa Quell'altro che Mi porta tutti i materiali Se creano le fazioni Le robe Ma andiamo avanti Vi faccio vedere la lobby Vabbè per chi conosce Minecraft Già lo sa Se uno preme doppio spazio Vola No anche in vola Però che cammina più veloce A sinistra Ci sta Top Parkour Top Parkour Con Già intravedo alcuni nomi The Red Illusion Dark Worker Michi Già questi qua Illusion Per partecipare al parkour Basta prendere il Come si chiama questa La La metista La pietra Prendi la pietra C'è clicchi col destro Ecco qua Voli Oddio Non vedo il texture Non vedo Ah si C'è sto sopra la texture Oddio Pensavo fosse Cazzo No 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 Funziona tutto Perfetto Preciso No è che Se confondeva con lo sfondo sotto Però Ok Qua Ogni salto Te prendi Due Subito Ah non funziona Ah per forza Devo fare per forza così Ok Eccetera 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 E vaffanculo Vabbè Avete capito Quindi Qua c'è la possibilità Di fare Il parkour Poi ci abbiamo Top Kills Top Kills Sempre all'interno Della lobby Basta che prendi La spada Sulle mani Prendi Ecco Il pvp si attiva Tra 3 2 1 C'è un countdown Poi Questo qui Ehi Ehi Inizia a fare un po' Del pvp Eccola là Cioè Lui è più bravo Di me Vabbè Io invece faccio Cacca Vabbè Comunque C'è top Kills C'è Gian Gian Q 58 Kill Cazzo 58 kill Poi andando avanti Qui di fronte Ci abbiamo tipo Una specie di pupo 3 pupi in realtà Al momento C'è solamente La survival Per un semplicissimo motivo Perché le altre modalità Le stiamo sviluppando Piano piano Abbiamo intenzione Di mettere Le skywork E poi Anche Le bedrock Skyworks E bedrock E bedrock Ok Ecco Il mio socio Sa meglio di me Come si chiamano Per entrarci Dentro la survival Allora Ci sono due modi O questa bussola Che c'hai sulle mani Che c'ho sulle mani Questa qui E ti fa entrare direttamente Dentro Ovviamente qui c'è scritto Che non è Non è disponibile Al momento O dentro la bedworks O dentro la survival Oppure Clicchi qui Appena clicchi dentro Il pupazzo Ti spona qui Questa qui è la Sala d'attesa Della survival Qua ci sta Tutte quante Tutte ste cose Qua ti spiega tutto Ti spiega Pure come segnalare Sì perché Magari ci stanno pure Gli hacker Ste cose qua Non si sa Qua ci stanno Tutte le regole Ovviamente Non si accettano I cheating Le truffe Costruzioni offensive Vabbè Costruzione con Un pisello Se può fare Dai Vabbè Poi ci sta Abuso dei bug Ovviamente Non si può Abusare di bug Tipi kill Griefing Furto Fk farming Ovviamente E tutto quanto Diciamo Se può fare Invece A breve Metteremo anche Uno staff Che controlla Che modere Tutto Se volete Candidarvi Venite su discord C'è la sezione apposta Poi qua ci stanno I comandi I rank Le aste Che non so ancora Come funzionano Come funzionano le aste Se fai il comando Slash ah Ti si apre un inventario Dove puoi mettere Gli oggetti all'asta Ok Queste Asta Uno e uno Bello Mi piace Poi Andiamo avanti Eh però per andare avanti Devo mangiare Perché se no Ah me curi tu Che bello essere admin Poi qua ci abbiamo tipo Un bar Dentro il bar Poi comprare Con le monete del gioco Le red bull Le pepsi La coca cola Poi c'hai La birra Il whisky Il vino Sai che sarebbe figo Per il meme Metteci la level up Anzi Con scritto Level up Se può Lo facciamo Certo 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 Per il meme Però eh Non perché Ho la spot Cioccolata Garda Poi c'è Il frullato Tazza De tè E tazza De caffè Tutto c'è sta Insomma Qui a destra Se uno va un po' più Che c'hai messo qua Che è? Baule di ender Che se muori Comunque Tu lo apri E c'hai L'inventario Tuo là dentro Nessuno può Prendere quello che c'è dentro Lo vedi solo tu Ah solo io Ah ok Utile Non lo sapevo Complimenti Poi qua c'è Efre Warfall 16 uccisioni Sono Le uccisioni Che fa lui Poi ci stanno Filippo Guardone Che è simile A uccisioni Però qua è praticamente Come posso spiegarvi Chi si ammazza di più Se vi suicidate più volte Finite qua Chi c'ha più monete Eccolo qua Tipo La valuta Non ho ancora ben capito Però come si fanno le monete Sai? Attualmente si possono guadagnare Uccidendo I mob Ok Ma anche stand online Sì anche stand online Qua lo spawn FK Ah qui è lo spawn FK Ok Perfetto Non lo sapevo Poi qua ci abbiamo Un simpatico Non lo so Chi cazzo è? Ma questo su io Sì Ma questa è la faccia mia L'ho messo io L'ho messo io Ah messo tu Bello Simpatico Andando a destra Abbiamo Un posto dove Possiamo inserire Delle chiavi Che droppano I mostri All'interno Della survival Ha una percentuale Molto 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 bassa Quelle più rare Quelle comuni invece Si trovano Me ne puoi dare una Per vedere un attimo Che cosa C'è stato dentro Il leggendario Vediamo un po' che te dà Ah Che dè La bibbia Ma è buona? Guardi Sì è ripristino Efficienza 5 Sono due libri Veramente buoni E che dè Boh Io non conosco Vabbè Ancora non ci sono arrivato A sto livello Tra le tante cose Che ti dà Se tu premi il tasto Qua sulla cassa Puoi vedere tutto il conto Ah Tra tutte queste Ti possono dare Queste cose qua Ti possono droppare Le varie chiavi Come ho detto all'inizio Te le danno in maniera random Te le dà Ma andiamo avanti Di qua poi abbiamo messo Tipo dei minigiochi Qui che Al momento Sono disabilitati Tipo un pvp Una roba del genere Come? I duelli I duelli I duelli I duelli Abbiamo messo duelli Qua Anche ci sarà Una modalità Tipo zona pvp E shop Shop Non ho capito Che significa Shop nel senso Che puoi acquistare Oggetti all'interno del gioco Con la moneta Che c'è Ma qui dentro Questo dove sta La zona pvp Sì Qua ci sono Alcune delle cose Più Rare Tra virgolette Che puoi acquistare Ah Cazzo E qua ti ammazzano però Eh sì E questo è che ti ammazzano E quindi tu te ne stai qua Te ne stai qua Tu hai anche aspettato Cambri Cambri Poi vieni Ta 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 E lo ammazzi Mamma mia Siamo tornati Lo spawn Adesso Scendendo le scale Qua sotto Qua Se uno si butta De sotto Qua ci sta un gradere Se uno si butta De sotto Entra Nella vanilla Veda e propria Proviamo Oddio Io c'ho pura Oddio No Dai non ce credo Che mi ha trasportato Sul ragno Porca troia Ah no Sei tu Sei tu Pensavo fosse un ragno Ma dentro Ma dentro una caverna Mi hai trasportato Eh sì 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 Questa volta E adesso come faccio E adesso Per tornare indietro Fai slash spawn Ah Oppure direttamente Se vuoi il comando Slash rtp Ah rtp A random De sotto Porta Esatto Ah rtp Ah ecco infatti Questa È solo una Delle tante modalità Che vorremmo mettere Abbiamo intenzione Di assumere anche Una persona Che ci darà una mano Per Lo script Per gestire Le varie modalità Le varie cose Perché Una cosa Che non ho detto all'inizio Che vorrei tanto fa Sul server È aggiungere Dei dungeon custom Magari Con un boss De padre pio Dove bisogna Staccare la testa Un qualcosa Preso dai vari meme De Matteo HHS Per fare ciò però Non è che si realizza Gratis ovviamente Non metto Donation goal Sulla live Non metto nulla Per supportare Questo progetto Enorme Ci sono I VIP E poi ci sono I kit mensili E le loot box Ovviamente Tutti i soldi Che Uno Spende Verranno utilizzati Per Sia per il server E se avanza qualcosa Ce lo smezziamo Io e I lost Anche perché I lost Sta a fare un lavoro Se sta a fare Veramente Un culo Non dico H24 Ma quasi Quante ore Che stai a lavorare Qua Per il server Nell'ultimo mese Tantissime Tantissime Quindi Speriamo che vada a buon fine Tutto questo progetto C'è tanta voglia di fare Tanta voglia di lavorare E tanta voglia Di divertirsi Quindi Io Spero E credo Fermamente Che questo server Sarà uno dei migliori In Italia Per acquistare VIP Basta andare Dove c'era il buco Che porta giù E qua davanti Ci sono tipo Degli umini Se uno va Dato di Minachs Perché giocheremo Alla survival Non dico tutti i giorni Ma molto 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 spesso Portate pazienza Se ci stanno Di bug Anzi Reportateli Così almeno Li sistemiamo E ci vediamo Alla prossima Ciao belli Ciao belli